Sono attese per fine maggio le conclusioni del Procuratore Generale nel giudizio di secondo grado aperto nei confronti di Alessandro Barberi, Alberto Musto e Fabrizio Rizzo. Tutto si deciderà davanti ai magistrati della Corte d'Appello di Caltanissetta a cui sono rivolti i difensori dei tre. Gli imputati sono accusati di far parte del gruppo di Cosa Nostra intenzionato a rinsaldare i ranghi lungo l'asse Gela Niscemi. Così non sarebbero mancati atti intimidatori e danneggiamenti nei confronti di un gruppo imprenditoriale niscemese. Fatti che finirono al centro dell'inchiesta Fenice. In primo grado il gruppo del tribunale di Caltanissetta emise condanne per un totale di oltre 30 anni di detenzione, 12 anni di reclusione per Barberi, 10 anni e 4 mesi per Alberto Musto, 8 anni e 2 mesi per Fabrizio Rizzo. Adesso i giudici nisseni dovrebbero pronunciarsi anche sull'entità delle condanne emesse in primo grado a conclusione del giudizio abbreviato. I giudici della Corte di Cassazione infatti hanno rinviato gli atti ai colleghi nisseni dopo il ricorso presentato dalla Procura Generale. Per i magistrati della Procura infatti l'entità delle condanne di primo grado non sarebbe stata conforme alle gravi accuse mosse a Barberi, Musto e Rizzo. Una ricostruzione quella portata avanti dai magistrati della direzione di settore antimafia di Caltanissetta fortemente contestata già in primo grado dai difensori Francesco Spataro, Flavio Sinatra e Antonio Impellizzeri. Le difese escludono la volontà di ricostruire un clan mafioso riallacciando i rapporti tra le famiglie di Gela e quelle di Niscemi. Per la prossima udienza sono fissate anche le conclusioni delle parti civili compresa l'associazione antiracket Gietano Giordano rappresentata dall'avvocato Giuseppe Panebianco. Grazie a tutti.